Mentre continua il braccio di ferro tra regione toscana e governo, sui CPR, i centri per il rimpatrio, i migranti arrivano con numeri importanti nelle varie province toscane. Nella Retino e Subbiano, il comune con più richiedenti asilo ospitati. Oltre 100. Dal mese di luglio sono andati aumentando i numeri per la messa a disposizione da parte di privati di alloggi che vengono gestiti da cooperative su richiesta della prefettura e chiaramente, viste le ultime emergenze, sono aumentati i numeri. Recentemente è stato utilizzato un ex ristorante nella frazione di Calbenzano per un CAS, centro di accoglienza straordinario. I comuni cosa possono fare e quali sono gli aspetti che possono controllare, supervisionare o è tutto demandato alla prefettura? Dunque, per quanto riguarda la nostra funzione è quella chiaramente di collaborare con il Ministero dell'Interno, quindi collaborare con la prefettura, non creare intralci ma diciamo di collaborare per garantire l'ospitalità e l'assistenza ai migranti. Il nostro compito comunque è quello di supervisionare dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza pubblica la gestione della situazione. Per quanto riguarda il nostro comune in particolare, come dicevo, la struttura che ospita qualche decina di migranti, chiaramente per noi è un po' un sorvegliato speciale perché anche i cittadini stessi si sono preoccupati dal numero. Ad oggi non abbiamo avuto segnalazioni scritte, perlomeno nessuna segnalazione anche verbale di situazioni di allarmismo dal punto di vista della sicurezza pubblica. Abbiamo effettuato con il gestore più di un incontro, siamo in contatto diretto con la prefettura e quindi noi faremo i nostri dovuti controlli sulla struttura e sulla gestione anche, diciamo, dei ordinarie, insomma, per quello che riguarda appunto l'aspetto igienico-sanitario e per quello che riguarda appunto la gestione di questi ragazzi dal punto di vista della sicurezza pubblica. Ecco, anche perché se non ci fossero queste strutture, questo ovviamente non lo dice lei ma lo dice la prefettura, l'alternativa sarebbe la Tendopoli. Sì, infatti ci sono svolti dal mese di luglio in poi numerosi incontri con i sindaci di tutta la provincia. La prefettura ha chiesto in mille modi collaborazione a tutti i sindaci per reperire strutture atti ad ospitare i migranti. I numeri sono esplosi in quest'estate, quindi chiaramente l'emergenza era, diciamo, abbastanza rilevante in questo periodo, per cui dal nostro punto di vista ce la mettiamo tutta, senza, diciamo, strumentalizzare la situazione. E dal punto di vista politico non servono bagarre di nessun genere, non serve all'armismo e sicuramente l'arma migliore è il controllo e la supervisione.